Ciao dolci unicorni, oggi un nuovissimo spacchettamento della box Aki Bento e io ormai adoro la box Aki Bento perché all'interno si possono trovare tantissime cose super fashion dedicate agli anime, ai manga, ai cartoni animati, di tutto e di più e se volete anche voi ricevere una box di questo tipo cliccate giù in descrizione e abbonatevi per ricevere la Kibento è pesantissima, quindi non so cosa ci possa essere all'interno se faccio così penso che si rompe definitivamente e fa boom ok allora ho qui il mio amico taglierino voi state molto attenti quando aprite box eccetera eccetera ok ho fatto un taglietto ed è arrivato il momento di scoprire la box di questo mese si allora appena la vedo Andrea tipo dice oh mamma mia questa era la box di Andrea e invece no è mia allora intanto una cosa simpaticissima troppo carina che non vedo l'ora di assaggiare c'è il ramen il ramen e perciò c'è Naruto insieme a Sakura che stanno mangiando il ramen ma che buccia seria? troppo carini, nudos no vabbè appena lo vedo Andrea subito sicuramente oh io lo voglio, lo voglio invece no lo devo assaggiare io è scritto pronto in tre minuti quindi questo qui mi sa che lo mangeremo stasera almeno io lo mangerò Andrea no mi spiace no una piccata pazzesca il ramen ok poi guardate cosa c'è anche qua da Dragon Ball direttamente e questo qua prende ma no è mio ed è il popazzo di Dragon Ball Black Goku ed è troppo troppo buccioso poi i capelli tipo i capelli tipo quindi hashtag mi raccomando ed è troppo carino allora questo qui lo potete tranquillamente mettere come peluche come decorazione anche nella scrivania o nel letto perché non ha nessun attacchino quindi da appendere da qualche parte è proprio un peluche così ed è troppo carino con la testa gigante e gigantesca e ovviamente sono tutte cose originali quindi mi raccomando date un'occhiata ad Aki Bento perché è top poi cosa pesco? cosa posso pescare? cosa pesco? la maglietta la maglietta è wow è pazzesca chissà qual è il tema di questo mese perché a me piace scoprirlo dopo il tema del mese e sono praticamente dei robot spaziali sì perché non li conosco anche se questo qua sembra quello di Dragon Ball in versione robot però non lo so tipo un dubbio quindi non lo so lei è una signorina molto però non pende perché li fanno così un po' ma vabbè comunque tipico dei manga poi c'è io prendo l'etichetta vediamo allora il tema di questo mese è l'universo quindi universe l'universo ecco perché c'era quello tipo un robot spaziale ok poi c'è un cappettino da mouse vediamo chi c'è allora c'è una sagoma in tipo in ombra di una ragazza e non so chi sia comunque così non capisco bene chi possa essere è tipo una ragazza non lo so questo qui non lo conosco comunque non so quindi fatemi sapere giù nei commenti se avete indovinato o se comunque conoscete l'anime al quale appartiene questa ragazza misteriosa la ragazza misteriosa poi cosa sono carte da gioco di evangelion le carte da gioco di evangelion cioè ma questo qua ma 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 no le devo assolutamente aprire ok ho tolto tutta la carta e ci sono veramente le carte di evangelion quindi cioè ma ma non lo so e la keybent è sempre una sorpresa tutti uuuuh no vabbè ma sono le tipiche praticamente carte normali da gioco con i personaggi di evangelion cioè ma guardate ma è qualcosa di assurdo spettacolare bellissimo stupendo stupendo wow e poi l'ultima cosa che c'è qui dentro è questo qui che è di black rock shooter allora sicuramente la ragazza questa qui è di quest'anime perché si somigliano c'è qualcosa che li collega e penso che sia uguale ed è quello uno stampino che lo potete mettere ovunque non è quello lì da mettere magari negli abiti ma da mettere nell'agenda nel diario o anche attaccare non lo so alle macchine di vostri genitori no non lo fate non lo fate io l'ho fatto con mia mamma ma comunque silenzio e quindi questo qui è molto molto figo lei è molto figa perché è tutta di nero con questi capelli tipo wow una spada gigantesca e quindi è figa molto molto figa mi devo assolutamente informare di quest'anime perché non lo conoscevo e qui c'è il libricino dove dice che il tema del mese è l'universo universe no vabbè spettacolo che dire infatti qua c'è il naruto e c'è anche il selfie contest quindi se voi vi scattate la foto con la box potrete vincere delle t-shirt delle magliette o comunque anche cose random e soprattutto anche il kunai di naruto cioè ma 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 bellissimo ovviamente tutte esclusive di akibento che dire se vi incuriosisce akibento se volete provare e vi volete abbonare anche voi ad akibento cliccate giù in descrizione il link che troverete così spulcerete tutto quello che c'è riguardante il mondo di akibento se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video mi aspetto sempre su instagram e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao